Non credo Tino che Giovanni ci abbandonerà molto facilmente, ma non Giovanni inteso come Giovanni, ma come la storia che abbiamo raccontato di Giovanni, seppure purtroppo continua a bazzicare questa zona nonostante io avessi chiesto in tempi non sospetti di evitare di andare per esempio a chiedere qualunque cosa, persino una sigaretta, da Domi e Alvaro, lui non vuole che vengano fatti dei nomi, noi però siamo abituati, lui lo sa perfettamente, a fare nomi e cognomi e non vorremmo essere costretti a farne tanti altri. Dicevamo, non possiamo liberarci tanto facilmente della storia di Giovanni, a chi dice che è stata una storia che ci ha creato tanti vantaggi, dico sì, è vero, ci ha creato dei vantaggi, seppure gli svantaggi sono stati superiori, nettamente superiori, se per vantaggi può essere inteso la storia del cash, la storia economica, ne abbiamo spesi molti più di quanti ne abbiamo guadagnati per la storia di Giovanni. Ma volevo dirvi che non può non essere un altro tipo di storia, quella di Giovanni, anche perché vi racconto questo aneddoto, prima di entrare nel merito di questa cosa che ho visto, che mi ha fatto arrizzicare le carni. Ora, Tino, vorrei condividere con te una cosa che all'epoca mi ha fatto molto sorridere, mi ha fatto anche commuovere e che ora mi fa arrabbiare tantissimo e capirete anche perché. Tutti sanno che io ho due figli, uno di undici e uno di sette anni, e Pietro è patito dei pupazzi, no? E recentemente, perché si era comportato bene, abbiamo avuto un patto, abbiamo stretto un patto, gli toccava un regalino. Siamo andati in un centro commerciale dove c'è un negozio di giocattoli e lui è andato subito dove stanno i pupazzi, dove ci sono, sai, si chiamano Ken, i fidanzati di Barbie, no? Si chiamano Ken, sì. Dove c'erano Ken, ma lui non è andato in un... Qualunque. È andato nel settore della disabilità. Ho scoperto che c'è proprio tutto un filone della disabilità. Quindi c'era Ken con l'apparecchio acustico, Ken sulla sedia a rotelle, Ken con... Insomma, ce n'erano tanti. Ma lui, indovinate per quale motivo, ha scelto questo. Guardate un po'. Guardate. Ha scelto questo con la protesi. Ho bisogno di aggiungere altro? Mio figlio di sette anni, una delle pochissime persone al mondo per le quali farei veramente qualsiasi cosa. Ora, questo per dire che è sempre tutto oltre quello che voi immaginate, perché tutte le ripercussioni, tutti i coinvolgimenti, anche familiari, sono molto pesanti da gestire. A me ha fatto piacere, perché vuol dire che mio figlio ha capito che chi ha bisogno d'aiuto va aiutato. Non gli ho spiegato poi tutto quello che è successo dopo. Lui è stato contentissimo e siccome non ero con lui, me l'ha mostrato con fierezza quando con la madre ha comprato il Ken con la protesi, chiedendomi quando Giovanni avrebbe avuto la protesi. Ma andiamo oltre. Perché, Tino, perché? Perché tanti di voi ai quali faccio di nuovo una implorazione, vi prego, vi supplico, non chiedetemi come te, per esempio, dalla Liguria, per esempio da Torino, da Milano, da Palermo, che fine abbia fatto Giovanni? Perché noi non lo seguiamo più. Quindi non sappiamo dirvi che fine ha fatto, che fine sta facendo. E mi hanno suggerito altri un canale YouTube di un cosiddetto senza palle, che è un senza palle non solo perché non ha un nick che si rifà il suo nome e cognome, ma è un senza palle, mi fa sorridere, perché ha anche la voce camuffata. E con alcuni adepti, parliamo proprio di alcuni adepti, si diverte, si è divertito ad analizzare la storia di Giovanni e la fine della storia di Giovanni. Io quella sera non riuscivo a dormire, me lo sono visto tra l'una e l'una e mezza, perché durmo mezz'orti in questo video, mezz'ora, e mi sono segnato, vi chiedo scusa se salto di palo in frasca, ma mi sono segnato rispondendo a chi, una delle persone che ci aveva segnalato questa cosa, con degli appunti. E vorrei insieme a voi. Allora, quinto sfintere ci chiama questo senza palle, a borro come gestiscono la linea editoriale, cioè non la linea editoriale, pensa quanto è portatore di qualcosa, no? Non la linea editoriale, ma come si gestisce la linea editoriale? Premessa, il video non l'ho visto, e che cazzo? Scusami, è un senza palle, con la voce camuffata, che cosa vuoi aspettarti? E quindi dice che in modo fresco, non mediato da previe conoscenze dei fatti, Giovanni Santorsola me lo sono inquadrato in tutti i video, dice, non mediato da previe conoscenze dei fatti, lo dice lui, in tutti i video che si è visto, o non li ha visti, non ho capito un ragazzo. Sostenetemi con donazioni, continua a dire lui, e ha in sovraimpressione perennemente per tutta la durata del video, la scritta di sostenerlo, attraverso codici Amazon in privato su Telegram, no? Dovremmo fare anche noi così, camuffarci la voce, farci fin di haters per poi sparlare di noi e farci avere i buoni Amazon. È vero? Quindi non bastava ubriachello, immagino si riferisse al nostro buon Lello, dice questo senza palle, a tenere in piedi il canale si erano procurati, ci eravamo procurati, io e te, due drogati, Leo e Giovanni, in modo tale da avere tre storie strappalacrime. Allora io vorrei chiarire intanto una cosa, noi non andiamo a cercare nessuno, non lo abbiamo mai fatto, potete tranquillamente chiedere a chiunque delle persone abbiamo in qualche maniera aiutato in maniera duratura o breve. Quindi sono loro che ci hanno chiesto aiuto in tutti i casi e noi ci siamo prodigati dopo un'analisi per poter cercare di dargli una mano. Non tutti vengono scoperti in breve tempo, no? Come è successo per esempio per la baresina o per l'influencer povera, non sempre si riesce a capire qual è. No, qual è? Sai, la mir che viene fatta. E va bene, ma vado avanti perché dicevo, prendevo appunti in questa nottata insonne. titoli strappapalle. Li fa Caruso Raffaele, punterà sul pietismo, fuori dalla stazione con due o tre cani, riferito a Giovanni. Hanno molti sciocchi che li sostengono con donazioni e questo è male. Mentre invece sostenere lui che non ha una faccia, non ha una voce e dice stronzate è un bene. A noi ci trovate sempre qua, siamo sempre qua, non ci muoviamo da qui. I titoli non li fa Raffaele, i titoli li propongono man mano che sono al desk i nostri colleghi e io, io, che gestisci la linea editoriale, malamente, in maniera evidente, do l'ultima parola su come deve essere un titolo. Capisci senza palle? Non dire così, Tino. Ho detto senza palle io? No, non lo so. Sì, ho detto senza palle, quindi lo puoi dire anche tu. Quindi capisci quello che voglio dire, Tino, lo faccio io il titolo, non Raffaele Caruso, che dà al giornale un apporto strepitoso come Eleonora, fin anche stata con noi, ma poi dovuta andare via per la questione della bimba che sta aspettando, ma tornerà, tornerà anche e non di meno il nostro caro Tino. Giovanni invece non crede che vada, evidentemente, siccome tu non li hai visti, non credo sappia come è Giovanni, quindi non andrà sicuramente a chiedere le mostri, non fuori dalla stazione con due cani. Da dove si è calato? Da dove si è arrivato? Senza palle nostre. Appena leggono qualcosa che non piace ti rispondono stizziti e offendono. In quel caso vorrei ancora una volta precisare che il 90,9% dei commenti sono miei, anche forse il 100%, e dipendono moltissimo anche dalla forma con cui vengono esternati, perché sono capace di risposte dettagliate, approfondite, ma sono anche capaci di bannare velocemente, di mandare a fanculo e continuerò con questa mia linea editoriale che è mia, che ho, posso dirlo tranquillamente, due palle grosse, così, così, di più, a differenza tua. Ma è bella questa cosa, perché non riuscivo a dormire, più non riuscivo a dormire, più non dormivo, questo è il fatto. Lo spremono come un limone per le visualizzazioni, è acclarato a Giovanni, fermo restando che le visualizzazioni da quando non seguiamo più Giovanni non hanno subito alcun tracollo. Ve lo dico così, anzi, per certi versi si sono mantenute, qualche giorno anche sono andate oltre. E allora perché ti atteggia giudice dicendo è migliorato, le visualizzazioni stavano scendendo e il guadagno era meno? Noi non eravamo giudici e quindi non dicevamo che era migliorato per una cosa qualunque, era migliorato per l'atteggiamento che aveva nei nostri confronti e non solo quello che tu senza palle vedevi nel video, ma quello che se vedevi il video, perché par che non li vedevi i video, ma l'atteggiamento che aveva privatamente nei nostri confronti. Quindi se io dicevo sta meglio e migliorato è perché ritenevamo che fosse stato meglio e quindi lo condividevamo con voi. Quello che non si vede alle telecamere. Così come quando ci siamo allarmati lo abbiamo cacciato Giovanni, è perché abbiamo avuto contezza estrema, senza nessun tipo di perplessità, che Giovanni avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Nel senso che, provo a chiarire meglio senza palle, non mi camuffo nemmeno la voce così può essere chiaro, se noi ci fossimo accorti prima e avessimo avuto la certezza, non la diceria, non il fatto che tu dalla telecamera avessi visto la pupilla o il biascichio di Giovanni, Giovanni sarebbe andato a fanculo molto molto prima. Capisci? Perché la nostra linea editoriale è quella. Cioè non ti sto dando la stanza del buco, no? Ti sto dando ospitalità. È una possibilità per migliorare. Ma leggo ancora perché è molto bello. Il tablet per fare i corsi online sparito? No, il tablet ce l'ha in custodia nell'altra casa di Quinto Potere, Domi, che è una donna insieme ad Alvaro, della quale ci fidiamo ciecamente, siccome è una cosa di Quinto Potere, resta nella casa di Quinto Potere. È triste Antonio perché dice, cazzo adesso tutte le visualizzazioni, dove lo trovo un altro tossico come lui che mi faceva guadagnare. Scusa dietro. E si è proprio il bambino. E si è proprio il bambino. E si è manata a casa. Con tutti i soldi che ci facciano prendere. Non gridare, non gridare. Ma con tutti i soldi che ci facciano prendere e tu si manata. Tino stai zitto che qualcuno invece vorrebbe che facessimo una serie su di te. E che c'è tu? Eh non lo so, che ci fai guadagnare. Il che, il cash, il cash. No dietro, farsi come l'Ello e Giovanni, è un cash. Avrai il tuo cash. A un certo punto, guarda come si atteggia a buon samaritano. Non ci atteggiamo a buon samaritano. E nella nostra linea editoriale noi abbiamo deciso che si può guadagnare facendo del bene. Questo è tranquillamente. Salvo comunque fare le nostre inchieste, i nostri pezzi simpatici, le nostre uscite a gamba tesa. Le facciamo ugualmente. Ma a voi fa comodo vedere solo quello che volete vedere. Mi gioco le palle che tra un mese o due lo vanno a riprendere. Secondo me va in overdose e corrono in ospedale per uno special. Farlo venire a casa, investimento delle proprie risorse. Devono venire fuori quattro stipendi. Quindi noi, tra due mesi, quando lui andrà in overdose e verrà ricoverato in ospedale secondo questo senza palle, correremo a fare uno special su Giovanni perché dobbiamo in qualche maniera guadagnare per i quattro nostri stipendi. Capisci che stratega invece è questo? È un genio. Veramente, veramente un genio. Soprattutto del marketing di internet. Fantastico. Scommettiamo che ai primi di settembre salta fuori un nuovo personaggio che falliscano. Quei quattro sono dei mentecatti. Allora, io vorrei spiegare a questo signore che ha quattro troglodito dementi che gli stanno sotto a scrivere che noi, nati due anni e mezzo fa, abbiamo fatto dei numeri pazzeschi perché al contrario tuo non siamo dei mentecatti. E abbiamo fatto questi numeri e i nostri guadagni, che non ti dirò mai, il cash, il cash, tuttavia dico a quelli sani di mente che non bastano per portare avanti la barracca perché noi ci facciamo un mazzo così in generale, non è che viviamo in questa maniera sulle spalle degli altri, anche perché l'associazione La Casa di Quinto Potere e Quinto Potere Il Giornale sono due cose completamente diverse che vengono gestite in maniera diversa con una linea editoriale diversa, se così si può dire, giusto per far comprendere a questo senza palle. E dunque sono dei mentecatti totali, lo ribadisce, tu racconti e noi ti aiutiamo, non hai il coraggio di dirlo chiaramente. Non ho capito cosa avremmo da dover dire oltre quello che già ci mettiamo, oltre il coraggio, le palle che già ci mettiamo nel nostro lavoro. Le veniamo a sapere ma non ve le dicono perché non fanno abbastanza cash, le storie parlavano di Giovanni, ciò che sta avvenendo, invece ti dico, proprio perché non capisci un cazzo di come è la dinamica dei social, se noi ti dovessimo dire le attuali novità su Giovanni, il cash si impegna, il cash, assai il cash, assai il cash. Invece, siccome non abbiamo questa necessità, lasciamo che Giovanni viva la sua vita e se volete fare nel secchiere lo sapere di Giovanni, vi informate attraverso Giovanni e non mi riferisco a quelli che in maniera buonaria ed evidentemente affettuosa ci chiedono, mi chiedono al mio numero di telefono come sta Giovanni, a voi risponderò sempre che purtroppo non possiamo darvi informazioni, ve lo dirò nella maniera più educata possibile. Invece a questi poveracci lo dico anche con fare stizzito, non da giudice, proprio stizzito perché mi avete scassato. No, 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 ma mi permetterei, lo sai, partiamo ma poi ci fermiamo. E in conclusione le risposte saranno tutte di quel tenore sempre, hanno aspettato a tagliare le dita così, ah, questa è bellissima, ascolta, ascolta, Giovanni ha iniziato ad andare in necrosi dalle dita, no carottino, giusto? Quindi, secondo la teoria di questo senza palle dei suoi adepti, quattro, lo ricordo, troglodito dementi, dicono che hanno aspettato a tagliare le dita all'inizio, come se noi e te potessimo decidere di tagliare le dita, così la pensione è bella sostanziosa. Stacco strategico sul muro sudicio, speriamo in qualche controllo. Quindi loro dicono che noi dovremmo essere controllati perché chissà quale magagna si scoprirebbe. Abbiamo tutto alla luce del sole, quindi dovesse venire il controllo saremmo felici di condividere con chi venisse tutto il nostro lavoro. Lo facciamo anche con la gente che vuole condividere quello che facciamo, non sindacare su quello che facciamo, sono due cose completamente diverse anche perché a chi non può darci una mano, non chiediamo una mano. Dunque, caro amico senza palle, di che cosa stiamo parlando? È una storia vera, una storia raccontata con pochissimi filtri, con i filtri della privacy, di alcune cose che proprio non potete sapere, così come non potete sapere quello che sta accadendo adesso. Una storia, lo ribadisco, che è vissuta talmente in maniera intensa che un bambino di sette anni, mio figlio, ha dovuto scegliere un regalino, un pupazzo, e ha scelto Ken con la protesi. A te, povero coglione, senza palle. Lo so che può essere un ossimoro, ma vorrei che fosse chiaro quello che voglio dire. Come hai visto, Tino, abbraccio tutto d'un pezzo, tutto d'un fiato, perché ce l'avevo talmente dentro, quella notte insonne a sentire questo cristiano. Ti consiglio, ma questo è un consiglio tecnico, piccia, distorci un po' meno la voce, da rendere almeno comprensibile, perché non tutti erano, come me, presi da questa cosa e l'hanno visto per tutta la mezz'ora. Dopo sette secondi rompi le palle, te lo dico così. Se voi ci chiedete, in maniera educata, anche in maniera perentoria, rude, delle cose, noi vi rispondiamo. Il segretario di casa è anche stato. Sì, sta chiamando, adesso rispondiamo. Ma se voi varcate il limite della decenza, del rispetto, anche semplicemente per ciò che facciamo, senza dirvi niente, chiedervi niente, a voi che state criticando, che non muovete un dito col culo dalla sedia, voglio dire, quale fastidio può dare il fatto che noi invece ci facciamo un mazzo così dalla mattina alla sera? Io a quello mi chiedo. Salvo poi gli haters, stessi, che ci criticano. Ma che ci danno i soldi poi per l'attività, perché si fidano di ciò che facciamo, visto che noi, come abbiamo fatto con Paola recentemente, per i 100 euro dati a Giuseppe, ma adesso mi viene l'ultima così, e soprattutto, ma poi vi racconto per bene questa cosa qua, ringrazio davvero tanto Riccardo, Riccardo che ci ha donato, Tino, tu non lo sai ancora perché non c'eri, rientri oggi. Sai quando ci ha donato, Riccardo? No. Canapone? 1000 euro. Con l'idea, ora è fuori Italia, ma migliaia e migliaia di chilometri, con l'idea di poter sostenere anche altri progetti di quinto potere. Quindi, ragazzi, se vi va di seguirci, seguiteci. Se non vi va di seguirci, guardate altro, vedete i me contro te, Nina e Matti, vedete, ma ce ne sono tanti, ce ne sono tanti per bambini, per adulti, vedete quello che vi pare. Posso proporre, come schiocco, Pornhub? Pornhub. Sappiate però che la nostra è la nostra linea editoriale, può piacere, non può piacere, ma è la nostra linea editoriale, quella per cui noi lavoriamo e noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera. Credo, mi scuso se vi ho tediato oltremoto, ma credo di avervi detto tutto approfittando di quello che ci diceva questo nostro amico senza palle. Per ora, e solo per ora, è quasi tutto.